buongiorno a tutti e benvenuti a questa tavola rotonda voluta e organizzata dal gruppo senior della sci e un caro saluto e un sentito ringraziamento ai partecipanti della tavola che sono personalità a tutti ben note che da sempre si occupano di divulgazione scientifica uno dei temi di questa tavola rotonda ossia piero angela silvano fuso e massimo polidoro piero angela non ha certo bisogno di presentazioni ma io devo pur guadagnarmi il gettone di presenza e perciò mi limiterò a ricordare che piero angela ha iniziato la sua straordinaria carriera come giornalista radiofonico in seguito televisivo per poi occuparsi di divulgazione scientifica con programmi tv passati alla storia ma che ancora oggi per fortuna vediamo con libri saggi audiovisivi insomma con ogni possibile mezzo di comunicazione ha ricevuto ben 12 lauree onoris causa oltre numerosissimi premi e riconoscimenti l'ultimo dei quali è l'onoreficenza di cavaliere di gran croce della repubblica italiana ricevuta quest'anno è stato fondatore del cicat il comitato italiano per il controllo dell'affermazione sulle pseudoscienze e mi fa piacere sottolineare che oggi anche massimo coppoli d'oro è il segretario generale del cicat che silvano fuso è responsabile ligure io sono un socio semplice del cicat silvano fuso andiamo in ordine alla fabbrica presentazione dei nostri ospiti è docente di chimica nella scuola è socio sci e anche lui è un appassionato divulgatore scientifico spesso ospite di 3 scusate di trasmissione di rai scuola autore di numerosissime monografie libri didattici e volumi che gli sono valsi numerosi premi tra cui per ben due volte il premio di divulgazione scientifica dell'associazione italiana del libro a lui come a piero angelo è stato intitolato un asteroide come ho già detto massimo polidoro e oggi segretario generale del cicat e anche lui è un famoso divulgatore scientifico nonché saggista scrittore giornalista si è formato alla scuola di piero angela e di james randy il celebre cereberrimo illusionista americano a sua volta divulgatore scientifico e fiero oppositore delle pseudoscienze massimo è un prolifico e apprezzato autore di libri articoli tiene conferenze in tutto il mondo autore di programmi televisivi di podcast radiofonici ed è attivamente presente sulla rete come appunto divulgatore scientifico al termine della tavola rotonda ci sarà un breve intervento sul tema etica della comunicazione che sarà tenuto da luigi campanella già presidente sci e oggi rappresentante italiano nel gruppo di lavoro sull'etica nella chimica della società chimica europea mi scuso se questa mia presentazione è stata troppo lunga ma era il minimo che io potessi fare per ringraziare questi ospiti che hanno accettato di buon grado il nostro invito nella recente e ancora purtroppo attuale pandemia mi ha colpito tra molti altri un fatto che ha a che fare con il nostro incontro odierno allora mentre per un lungo periodo di tempo tutti i mezzi di comunicazione facevano a gara per avere come ospiti gli scienziati che si occupavano di sars cov 2 cov 19 generando così una sorta di bulimia informativa infodemia più recentemente l'atteggiamento è cambiato e addirittura alcune prestigiose firme di autorevoli quotidiani nazionali hanno preso le distanze dagli scienziati prima così tanto zannati e io ho letto su principale quotidiano italiana scienziati ora basta tacete ecco io chiero comincerei da te chiedendoti anche tu hai osservato questo cambiamento come non interpreti come mai a un certo punto l'opinione pubblica non si fida più della scienza è solo un problema di comunicazione e di informazione a te la parola e grazie io purtroppo ti sento male ogni tanto la tua voce non so se silvano e massimo sentano bene e si sento un po di gracchiamente quella comunque ho capito il senso di quello che hai chiesto allora tutti vedo questi dibattiti sul covid che continuano vengono limitate persone che hanno il titolo per parlare di queste malattie sono medici infettivologi virologi gli ospedali quindi tra l'altro spesso persone in prima linea su questo ma vedi c'è una cosa io tengo sempre presente un detto di confucio io confucio due detti sulla porta che ogni volta che lo leggo anche quelli che vengono a casa mia e che dice meglio tacere che passare stupidi che parlare e togliere ogni dubbio questo ci sono persone che parlano troppo allora questo non riguarda le persone che abbiamo citato prima che sono persone competenti c'è un detto di confucio che io tengo sempre chiedo scusa mentre che cerchiamo di riprendere il collegamento con piero sempre in ordine alfabetico silvano vuoi intervenire tu anche dall'angolazione del chimico ecco volentieri intanto buonasera a tutti a voi e a chi ci segue online ma è dunque sì il problema che tu sollevi giorgio e penso che sia un problema assolutamente reale cioè c'è una certa diffidenza nei confronti della scienza per contro a quello che che tu dicevi no circa il fatto che qualcuno ha invitato gli scienziati a tacere c'è stato un episodio che a me aveva abbastanza colpito eravamo a maggio 2020 e un ministro della nostra repubblica possiamo anche fare il nome si chiama francesco boccia si era rivolto alla comunità scientifica pretendendo dalla scienza certezze inconfutabili ora chi chi chiede alla comunità scientifica certezze inconfutabili dimostra di non avere le idee molto chiare di come funzioni la scienza soprattutto nella circostanza in cui ci trovavamo il virus era una novità per tutti si sapeva molto poco sulle sue caratteristiche e quindi era nell'ordine delle cose che anche persone esperte nel campo della virologia della epidemiologia si esprimessero sostenendo posizioni differenti questo fa parte diciamo della normale dialettica scientifica solo che la gente non è abituata ad assistere a un dibattito fra scienziati perché di solito questi dibattiti non vengono fatti pubblicamente ma vengono fatti nelle sedi opportune nei convegni nei workshop eccetera e questo fatto evidentemente ha spiazzato molta gente ma il fatto che esperti avessero opinioni differenti derivava semplicemente dalla scarsità di conoscenza che vi era nei confronti del problema che tutti quanti dovevamo affrontare e quindi secondo me c'è bisogno proprio di una sorta di alfabetizzazione scientifica non dico nei contenuti disciplinari perché poi è chiaro che sono di competenza degli esperti però almeno avere un'idea a grandi linee di come funziona la scienza dovrebbe essere patrimonio di tutti e quindi noi che ci occupiamo di scienza che ci occupiamo di divulgazione dobbiamo fare un grosso sforzo in questo senso proprio cercare di far comprendere meglio che cosa sia la scienza come funzioni che metodologie utilizza certo bisogna insegnare a leggere i dati della scienza cosa non facile anche perché bisogna avere un interlocutore che abbia voglia di apprendere e che spesso così non è massimo tu come la sono ben tanto grazie ancora per l'invito è un piacere essere qui e come con silvano naturalmente c'è anche volevo sottolineare un altro problema no si cercavano gli scienziati soprattutto all'inizio di quella pandemia della situazione nuova che stavamo vivendo alla ricerca di appunto improbabili certezze assolute che la scienza avrebbe dovuto fornire e poi si è visto invece in tv il dibattito tra stessi scienziati che avevano opinioni differenti perché come diceva silvano è così che funziona la scienza all'inizio si fanno tante ipotesi poi strada facendo si capisce quale può essere quella più adeguata sulla base degli esperimenti delle verifiche delle repliche che tutti quanti i ricercatori fanno però c'è anche un altro elemento che secondo me ha portato poi a quel basta scienziati in televisione ed è legato al fatto che non necessariamente un ricercatore uno scienziato un esperto in un campo è anche un buon divulgatore un buon comunicatore perché tante volte abbiamo visto proprio scienziati virologi e altri che parlavano dando per scontate tantissime cose che non lo sono sicuramente non per il pubblico generico che guarda questi programmi e rendendo molto difficile capire alla fine di che cosa stessero parlando o lasciando proprio fraintendere alcune frasi e questo è un grosso problema per la per la comunità scientifica oggi per fortuna in molte università ce ne si rende conto e quindi sono anche in in corso dei veri propri corsi rivolti ai dottorandi ai ricercatori su come parlare al pubblico dei propri argomenti di studio cercando di renderli accessibili e comprensibili soprattutto a tutti ma non è scontato che sia così per tutti quindi ricordiamoci anche quando magari vediamo lo scienziato che sembra un po un pesce fuor d'acqua non è probabilmente il suo mestiere quello di essere lì in televisione a parlare ma chi fa i programmi che fa i talk show che organizzano questo tipo di tavole rotonde sempre la ricerca del nome grosso nome importante indipendentemente dal fatto che poi sappia effettivamente sapersi sappia si sappia spiegare sappia rendere comprensibile una situazione molto difficile sì grazie massimo scusate me stavo sempre cercando di riattivare collegamento con piero ha qualche difficoltà parente eh ecco forse eccolo piero bentornato ho un problema qui però mia figlia è bravissima ma forse c'è il microfono spento adesso sì ti sento per fortuna sono i figli che risolvono eh vabbè ne abbiamo già parlato di questo eh di tuo figlio io purtroppo non ho sentito quello che ha detto Silvano Massimo però vado avanti con quello che vuoi avanti vai avanti allora questa seconda massima di eh Confucio è la scienza è sapere quello che si sa e non sapere quello che non si sa ora nel covid ci sono alcune cose che si sanno in particolare tutto tutte le persone che hanno vissuto giorno per giorno questa malattia in primaria però se si comincia a chiedere queste persone ma secondo lei ma poi ma in futuro ma come si dice quelle sono le cose che non si sanno allora non è più scienza diventano opinioni quello che è successo e che continua a succedere credo e che il pubblico ma anche poi nel discorso quelli che che dibattono portano avanti delle rispondono delle domande anche perché poi le domande sono pressanti la gente vuol sapere e uno dà la propria opinione magari anche basata sull'esperienza quindi sicuramente valida ma non è più scienza e allora ci possono essere opinioni non sono diversi ma contrastanti ed è per questo che le persone hanno avuto l'idea ma allora sta scienziati che scienziati sono uno dice una cosa dice l'altra in realtà spesso vengono tirati per la giacchetta e magari alcuni nella conversazione si lasciano trascinare un po da questa dinamica però è questo il punto di separare quello che si sa da quello che non si sa allora io ricordo che una delle cose che mi ha colpito quando ho cominciato questo mestiere più di 50 anni fa è che andando in giro in certi laboratori anche io facevo le stesse domande e la cosa che mi ha piaciuto tantissimo è che uno mi rispondeva non lo so e questo se lei parla o se tu parli con un politico ma anche con una persona comune è difficile che non lo so comincia a dire quello che lui pensa le sue convinzioni le sue idee la scienza non è così non è così lo sapete bene prima sentivo un pezzo di quello che diceva Massimo ogni volta bisogna dimostrare quello che credo che nel covid sia successo un po' questo questa diciamo le proiezioni diciamo le proiezioni le opinioni quello che sarà come mai eccetera quelle sono opinioni ipotesi suggestioni magari convinzioni ma non è scienza credo che questo sia successo vorrei dire una cosa che purtroppo questo era vero in passato no il famoso ips e gixi arriva il sapiente aristotele era detto lui che i premi nobel spesso vengono interrogati su qualunque cosa e firmano manifesti di qualunque tipo ma sono persone comune non c'è la loro competenza le persone possono dire delle cose quando sanno una delle chiavi per capire anche un po' la confusione che c'è stata in questo periodo beh avete sentito ultimamente le ultime frasi un po' meno le prime benissimo comunque andiamo avanti e allora veniamo un po più alla chimica perché è questo qui è il congresso nazionale della società chimica italiana e l'immagine della chimica come tutti i chimici ben sanno a non solo i chimici non è del tutto positiva anzi a questo proposito ne parlavo con con piero pochi giorni fa nel 2007 ci fu un accordo tra la sci la società chimica e il vvf e piero fu il testimonial di questo accordo che prevedeva tra le altre cose anche una corrette informazione divulgazione sulla chimica bene ci fu una conferenza stampa e fu presentato l'accordo e diceva piero che il giorno dopo su un quotidiano romano comparve l'articolo relativo alla firma di di questo accordo e l'occhiello mi pare si chiami recitava matrimonio tra il diavolo e l'acqua santa indovinate un po chi poteva essere i ricordi piero tra il diavolo e l'acqua santa indovinate un po chi era il diavolo va bene quindi la chimica ha un'immagine pessima vorrei dire soltanto chi la conosce un po bene capisce che bisogna separare le cose secondo criterio seconda logica secondo conoscenza ad esempio oggi uno dei maggiori problemi ambientali non passa sera che i telegiornali non ne parlino le microplastiche l'inquinamento della plastica in questi giorni c'è il salone nautico a genova nella mia città e ho visto un motore che raffreddamento ad acqua ricircola l'acqua di mare intanto che la ricci prima di ributtarle in mare filtra le microplastiche questo è il messaggio di questa casa di propulsori malini quindi materie plastiche che addirittura secondo una certa scuola di pensiero sono talmente pericolose che andrebbero abolite completamente e non più prodotte beh lo scorso anno alla fine dell'anno sempre sul tema della della pandemia prima dell'arrivo dei vaccini eravamo a novembre e facevo le finale le premiazioni dei giochi della chimica delle finale nazionali e mi è scattato qualcosa che mi ha fatto pensare che senza la plastica la tanto vituperata plastica forse la pandemia avrebbe messo a rischio l'esistenza del genere umano beh tutti 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 noi abbiamo ben presente quelle immagini negli ospedali con gli operatori sanitari immersi in scafandri i dpi i dispositivi di protezione individuale dalla testa ai piedi gli occhiali le maschiali le maschiali i calzari a volte erano sacchi di immondizia perché non non ce n'era a sufficienza ebbene questa è tutta plastica tutta tutti questi dispositivi di protezione individuale negli ospedali sono di plastica e le immagini dei pazienti quelli con in testa il chip up il casco per respirare o peggio ancora gli intubati con con le cannule con questi tubi beh anche quella è tutta plastica tutta plastica le siringhe è tutta plastica e allora mi dicevo è un po una provocazione ma può essere anche una bestemmia ma senza tutta questa plastica la pandemia avrebbe naturalmente poi sono arrivati i vaccini che hanno dato una svolta decisiva ma immaginiamoci di un ospedale senza questa plastica senza queste protezioni i medici gli infermieri si sarebbero ammalati sicuramente sarebbero contagiati se non fossero stati protetti da questa plastica e quindi sarebbero ammalati a loro volta e morti in maniera molto maggiore di quello che poi è successo per fortuna e chi ci avrebbe curato chi avrebbe curato gli altri sarebbe stata una spirale perversa e poi per fortuna sono arrivati i vaccini e per fortuna c'era la plastica vero? ma guarda io sono perfettamente d'accordo e intanto devo dire che secondo me questo accordo con il WWF anche dal punto di vista dell'immagine della chimica è stato molto importante anche se poi queste cose non è che si sanno sono così divulgate perché tu stai benissimo che un conto è l'uso che si fa di certi prodotti chimici un'altra cosa è la chimica e la ricerca noi siamo fatti tutto quello che vediamo è chimica noi siamo dei laboratori di chimica la vita è nata attraverso la possibilità di mettere insieme la chimica come un gioco di lego i pezzettini che poi si uniscono e fanno tutto quello che vediamo e quindi questa idea che la chimica sia il diavolo è veramente infantile però è sempre stata associata al cattivo uso è come il fatto che le strade sono piene di plastica il mare è pieno di plastica ma scusa se tu a casa tua più niente plastica ma se tu a casa tua butti la minestra sul tappeto e dici la minestra fa male più niente minestra ma che vuol dire la minestra non si butta sul tappeto io ogni volta che vedo via Roma in particolare la città è molto storica purtroppo lunghi marciapiedi tutti questi residui sono carte ma molti pezzetti di plastica ma dico ma è possibile insomma che le persone si comportino in questo modo poi si dà la colpa al sindaco ma il sindaco deve mica correre dietro a quelli che buttano via le cose e il mare è lo stesso queste isole galleggianti che poi quelle del pacifico non sono nostre ci hanno tutte le scatolette i tubi le come si chiama le bottiglie di plastica ci hanno tutto il marchio sono arrivata la malese dall'indonesia da tutta questa zona del pacifico quindi insomma in tutto il mondo c'è questa visione ma perché si buttano nel mare la minestra si ricicla non si butta nel salotto ecco qui è la stessa cosa è una cosa di buona educazione tra l'altro tu sai benissimo citavi prima adesso questo sistema di filtraggio delle microplastiche che quelle effettivamente diventano un problema perché diventano delle particelle che poi se le vanno in giro allora è evidente che questa cosa bisogna prevenirla e come anche l'atmosfera l'atmosfera siamo noi che la riduciamo in qualcosa per imprevidenza decennale guarda io proprio oggi mi hanno portato un mio filmato del 1975 fai conto di quanti anni fa io avevo fatto un programma in cinque puntate che si titolava dove va il mondo ed era su tutte queste questa crescita della popolazione dell'inquinamento del consumo di energia eccetera e c'erano lungo tutte le cinque puntate dei numeratori che giravano già allora sono passati più di cinquant'anni e questa roba qui continuiamo a dirlo come se se la scoprissimo oggi questo è il vero problema incapacità di capire e di gestire non poi che da la colpa giustamente la plastica tu hai citato due casi ma la pratica è dappertutto allora adesso poi si sta proprio la stessa chimica sta cercando di tirarla fuori dai vegetali persino dal latte da altre cose quindi insomma basta orientare e governare io quindi la colpa è della cultura perché la cultura di queste cose non si occupa e poi le scopre e le demonizza avete sentito sì 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 abbiamo sentito perfettamente tra l'altro tu qua Piero tu dicevi noi siamo chimica la chimica è tutto tutto è chimica beh le stesse parole le diceva Renato Dulbecco premio Nobel per la medicina e fisiologia un po' di anni fa quindi è così però appunto dobbiamo farlo sapere dobbiamo cercare di far capire all'opinione pubblica che che la chimica è una scienza e che produce dei risultati straordinari per l'uomo per l'umanità e certo poi però c'è il maluso da parte dell'individuo ma allora è colpa dell'individuo o della popolazione o di quell'insieme di persone che adottano comportamenti scorretti che non sono certo colpa della chimica sempre in ordine alfabetico Silvano scusa Massimo ti faccio aspettare ho messo il problema Silvano ma Giorgio tu sai benissimo che io sono estremamente sensibile a queste tematiche purtroppo la cosiddetta chemofobia cioè questa paura questa diffidenza nei confronti della chimica c'è è un dato di fatto mi viene in mente un modo di dire che circola a volte negli ambienti scientifici si dice se non si capisce è matematica se non funziona è fisica se si muove è biologia se puzza è chimica quindi non c'è purtroppo questo associare alla chimica elementi negativi la chimica puzza, la chimica inchina, la chimica velena eccetera però come è stato appunto già detto anche da Piero tutto dipende come si usa la chimica fornisce conoscenze poi il modo in cui noi possiamo usare queste conoscenze dipende unicamente da noi non dalla chimica e lo stesso purtroppo si sta verificando riguardo alla plastica che tu citavi c'è questa demonizzazione della plastica che non ha nessuna ragione di essere Piero faceva l'esempio della minestra io di solito faccio l'esempio dei fiammiferi cioè non si possono demonizzare i fiammiferi perché esistono i piromani chiaramente i fiammiferi servono a tante cose estremamente utili poi c'è chi li usa malamente come appunto i piromani parlando di queste tematiche una cosa appunto alla quale io sono particolarmente sensibile è la contrapposizione che solitamente si fa fra chimica e natura che è una contrapposizione assolutamente priva di ogni fondamento perché la chimica non l'ha inventata l'uomo l'uomo cerca di comprenderla ma la chimica c'è in natura dovunque noi guardiamo troviamo fenomeni chimici e quindi contrapporre la chimica alla natura è una cosa assolutamente priva di ogni fondamento ci sono cose perfettamente naturali buonissime, piacevolissime i documentari di Piero continuamente ci fanno capire quante cose belle ci siano in natura però anche in natura ci sono cose terribili parlando ad esempio di sostanze ci sono sostanze naturali che sono estremamente pericolose estremamente tossiche quindi non sono solamente quelle sintetizzate dai chimici a poter presentare determinati rischi ci sono sostanze perfettamente naturali che presentano rischi elevatissimi e quindi bisogna valutare le cose per quelle che sono in modo razionale e non dividere mai il mondo in bianco e nero in maniera manichea e questo purtroppo invece si assiste molto spesso non nell'opinione pubblica succede non per far pubblicità a Silvano ma ha scritto un bellissimo libro naturale uguale buono dove questi temi sono ampiamente trattati Massimo cosa dici tu? beh guarda io appunto non sono chimico ma ho una formazione da psicologo e quindi le domande che io cerco di farmi di fronte a questo tipo di situazioni sono sempre rivolte a capire come mai nascono perché le persone hanno paura della chimica perché le persone hanno paura generale di quelle che sono magari le novità tecnologiche scientifiche perché è nella nostra natura di fidare di tutto quello che non conosciamo perché non sappiamo che conseguenze potrà avere e quindi lo vediamo anche in ambito non chimico la paura che c'era inizialmente per il wifi la paura che c'è ancora oggi per molti per il 5G come se fosse appunto qualcosa di terribile che distruggerà le nostre vite persone che hanno paura che possa per esempio provocare il cancro magari poi sono le stesse persone che prendono il sole senza mettersi una crema solare protettiva dove si sa benissimo che il sole e il cancro lo può provocare e come no? se ci si espone in maniera incontrollata e allora che cosa si può fare? rendersi conto che queste paure ci sono evidentemente e come dire sminuirle, deriderle è il modo migliore per rendere queste persone ancora più irrigidite nelle loro convinzioni per renderle ancora più diffidenti allora bisogna cercare di ascoltare, di capire e provare a effettivamente come sta facendo la società chimica italiana ma come dovrebbero fare in generale anche i giornalisti a raccontare quelle che sono le novità quelle che sono gli aspetti scientifici meno immediati, meno comprensibili in un modo che sia fattuale che sia legato a quelli che sono anche gli aspetti positivi di tutti questi ambiti e non invece cercare sempre il sensazionalismo e l'allarmismo perché è facile con quelli alzare un po' gli indici di ascolto e di vendita quando magari sarebbe meglio dare delle informazioni corrette d'altra parte non è tanto diverso dalla paura che hanno i bambini o noi stessi quando eravamo bambini che stavamo al buio nella stanza da letto e ci immaginavamo chissà quali mostri c'erano nel buio forse da grandi sorridiamo di queste paure infantili però per il bambino che le vive sono reali, sono autentiche allo stesso modo per gli adulti che si trovano di fronte a cose sconosciute ed è solo, come si diceva appunto attraverso la conoscenza, la ragione ma anche l'empatia che forse possiamo imparare effettivamente a governare queste paure Sì, perché come dicevi giustamente tu Massimo i bambini hanno paura del buio perché non sanno che cosa c'è nel buio l'opinione pubblica ha paura della chimica perché non sa che cos'è la chimica e quindi c'è questo problema che parte da lontano parte dai primi anni di vita dei bambini che spesso in famiglia viene loro inculcato questo concetto che è naturale che è biologico e quindi da lì poi la scuola forse non ha gli strumenti nella capacità di governare questa situazione e quindi poi i frutti sono quelli che purtroppo vediamo Massimo tra le altre cose che non ho detto ma di tutti e tre i nostri ospiti non ho detto la maggior parte delle cose che avrei voluto dire perché sennò avrei occupato tutta l'ora a disposizione facendo il loro curriculum Massimo insegna all'Università di Padova tiene un corso per dottorandi che è proprio rivolto è vero Massimo alla divulgazione scientifica al modo corretto di divulgare ecco allora in questo congresso siamo tanti io spero che siano tanti gli ascoltatori di questa tavola rotonda tra l'altro sull'altra piattaforma ho visto che ci sono una serie di commenti tutti positivi entusiasti ma dall'altra parte è una audience di chimici e mi meraviglierei se fosse il contrario comunque a parte questo questa consolazione diciamo così tra questi partecipanti siamo più di 2000 iscritti ci sono moltissimi giovani dottorandi quindi il link con te è questo Massimo molti dottorandi giovani ricercatori precari la maggior parte però tutti molto entusiasti di fare ricerca e io vorrei che a questo punto voi che siete la crema della divulgazione scientifica Piero un parte l'ha già fatto nel suo intervento precedente quando diceva che gli piaceva dire sentire come risposta non lo so però voi con la vostra esperienza con le vostre capacità le vostre conoscenze che suggerimento vi sentite di dare a questi giovani che stanno iniziando la loro attività di ricerca ma che però dovranno divulgare quindi quale strumento usare quali malizie vorrei anche dire no? quali atteggiamenti Piero vuoi dirci qualcosa tu? sai è sempre difficile dare consigli agli altri io posso parlare per quello che mi riguarda posso portare la mia esperienza allora la chimica è una materia molto difficile perché la scienza in generale è così poco apprezzata perché è poco conosciuta tutti possono leggere un testo letterario un'opera teatrale possono seguire un concerto ma nessuno può leggere un articolo di chimica o di fisica o di matematica perché occorrono molte conoscenze ed è per questo che anche non si parla abbastanza sui giornali sui giornali la scienza appare per i suoi aspetti o miracolosi oppure demoniaci diavolo l'acqua santa per così dire perché e forse qui veniamo a un punto importante della divulgazione e cioè che io dico sempre bisogna essere chiari naturalmente per essere chiari bisogna conoscere bene la materia naturalmente a livello di divulgatore io poi sono divulgatore a 360 gradi parlo di tutto però seriamente ogni volta mi documento mi faccio controllare quando scrivo delle cose sui quali posso avere dei dubbi e con la massima onestà cerco di rendere come diceva una signora piacevole e scurrile il modo di cosa che allora quando tu sei chiaro già sei a metà strada ma devi essere anche interessante questo è il punto più difficile allora cosa succede che il nostro cervello c'è una parte del cervello che è vincente ma che non è quello della corteccia nobile è quello delle emozioni degli istinti perché noi reagiamo su quello che succede gli animali lo sappiamo hanno solo quello non possono fare dei pensieri astratti mettere insieme delle cose per proiettarle nel futuro lo prendono il presente e il presente che li può gratificare cibo o minacciare un predatore noi siamo anche così solo che i nostri predatori sono diversi sono anche la predazione fatta male anche con le parole con gli scritti insomma però se tu guardi anche i sommari di un telegiornale sono tutte disgrazie accoltellamenti polemiche rivoluzioni personaggi extravaganti oppure cantanti tutti regolarmente traguati con gli orecchini allora le emozioni hanno bisogno e sono vincenti se tu come capita noi dobbiamo fare invece ascolto quindi acchiappare il pubblico dobbiamo mettere emozioni dentro ma nobili emozioni che sono quelle poi quelle tecniche che usiamo con il linguaggio innanzitutto ma poi anche con le animazioni io ho usato moltissimo i cartoni in madre di bozzetto inseriamo dei pezzi di fiction cioè si cerca di fare un racconto per quanto lo scrive avvincente quindi se uno vuole arrivare al pubblico a un grande pubblico e allora deve usare un po' quando uno scrive non può fare tutto questo però tenerlo sempre presente e mettersi nei panni delle persone e immaginare quello che che le persone non sanno cioè la maggior parte delle persone se tu parli di fisica un letterato sa niente sa meno di un ragazzo di 15 anni che a scuola meno male un po' di fisica l'ha fatta se parli di chimica poi a un magistrato a un poeta a un direttore d'orchestra peggio più quindi sono persone che hanno bisogno di cose elementari la terza cosa è la credibilità questa purtroppo la si guadagna nel tempo e la si perde precipitevolissime volmente che ogni volta non bisogna sbagliare queste sono un po' le cose che io ho sempre osservato nella mia professione per uno scienziato per un dottorando certamente non è il suo mestiere però la deve tenere a mente quando parla agli altri si ha un po' tendenza e questo vale per tanti scienziati non a parlare al pubblico anche quando hanno un microfono davanti ma pensano ai colleghi se io uso un'altra parola non va bene perché purtroppo anzi è opportuno la scienza e come anche altre professioni anche i peruvieri fanno tra loro con delle frasi e delle parole che noi non usiamo ognuno ha il suo linguaggio e ogni parola ha un senso che non può essere sostituita con un'altra invece la vulgazione è così perché il problema non è di trasferire degli insegnamenti che loro fa la scuola è di trasferire dei concetti delle idee delle capacità di ragionare ecco credo che uno scienziato dovrebbe fare questo non raccontare le cose sue come le dicesse a un collega e purtroppo questo succede quanto quando ha un bambino 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 intelligente è così è così ci sono esperimenti di psicologia e Massimo riconosce delle persone che sono state filmate con interlocutori diversi per vedere come parlavano uno normale uno straniero un bambino la stessa informazione deriva data in tre mondi completamente diversi spontaneamente e allora uno deve ricordare sempre di parlare a un ragazzo intelligente benissimo grazie Piero grazie davvero Silvano ma c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Piero direi che ha già delineato perfettamente il problema sottolineando tutte quelle cose che sono fondamentali nella comunicazione scientifica per un ricercatore che si rivolge al pubblico secondo me è fondamentale l'onestà intellettuale limitarsi al proprio campo di competenza avere il coraggio come diceva Piero di dire candidamente non lo so è perfettamente normale che non si può essere esperti di tutto e ci sono cose che effettivamente nessuno nell'ambito della comunità scientifica sa per esperienza so che la maggior parte degli scienziati dei ricercatori hanno questa onestà intellettuale qualcuno ahimè a volte fa qualche scivolone per cui azzarda risposte su cose magari di cui o non è competente lui o di cui effettivamente si sa poco e qui ricadiamo su quello che si diceva all'inizio cioè nascono un po' di problemi perché effettivamente queste cose non contribuiscono ad avvicinare il grosso pubblico alla scienza riguardo alla chimica in particolare forse forse un po' di autocritica noi chimici dobbiamo farla cioè nel senso che dovremmo sforzarci di più proprio di far conoscere che cos'è la chimica tu Giorgio sicuramente lo conosci ma qualche anno fa c'era stato un sondaggio della Royal Society of Chemistry che mostrava proprio come la maggior parte della gente non avesse assolutamente idea di che cosa sia la chimica e di che cosa faccia un chimico cioè molti confondevano i chimici con i farmacisti è vero che i farmacisti hanno una preparazione chimica però chiaramente non si possono identificare le due figure quindi da parte della comunità dei chimici forse ci dovrebbe essere uno sforzo maggiore proprio nel comunicare quello che fanno proprio per far comprendere meglio che cosa sia la chimica non è una cosa semplice perché sappiamo benissimo che la chimica si occupa di tantissime cose però far capire qual è il denominatore comune che accomuna appunto tutti questi settori disciplinari grazie grazie Silvano Massimo a te la parola come docente dei dottorandi al pubblico giusto guarda è difficile aggiungere qualcosa alle parole chiarissime di Piero quella è una lezione che racchiude davvero l'essenza di quella che è la comunicazione chiara e così accessibile al pubblico generico per quel che riguarda la scienza aggiungerei solo qualcosa che Piero tu stesso ricordi spesso a proposito dell'insegnamento che seguendo il motto latino ludendo docere dovrebbe essere un insegnamento che diverte ecco qui magari il ricercatore il dottorando non è che deve divertire o insegnare ma sicuramente incuriosire interessare chi lo ascolta e se può farlo in una maniera che magari riesce anche a perché no a essere divertente senza per questo esagerare tanto meglio perché sono le cose lo sappiamo le cose che in qualche modo accendono un'emozione in noi che può essere anche la curiosità l'entusiasmo lo diceva Piero prima sono quelle che ci ricordiamo più facilmente che ci restano impresse e quindi anche se il ricercatore deve presentare il suo lavoro o una ricerca o uno studio di fronte a un pubblico non pensi di poter fare una trattazione troppo articolata bisogna darsi dei limiti molto grossi nel senso se già riusciamo a far passare una o due idee è già un risultato grande perché l'obiettivo non deve essere tanto quello di fare appunto una lezione ma accendere la scintilla della curiosità a spingere chi ti sta ascoltando a volerne sapere di più e poi sta proprio alla persona così motivata così incuriosita a voler approfondire quindi a partecipare e a volerne sapere di più a proposito di curiosità allora io sto controllando sulla piattaforma o due piattaforme aperte dove diciamo i partecipanti al congresso seguono questa nostra tavola rotonda e ci sono ovviamente una serie notevole di messaggi di ringraziamento per quello che state dicendo e però ne vorrei leggere uno in particolare non sono domande sono semplicemente considerazioni e dice in realtà da bambini siamo tutti ricercatori il gusto della scoperta chissà perché pian piano si perde nel corso dei processi educativi basterebbe mantenere vivo con interesse innato per la ricerca divulgare vuol dire far vedere che la scienza è divertente Piero Angel ha fatto decenni di intrattenimento con la scienza ecco non faccio il nome di questo collega però lo ringrazio come ringrazio tutti gli altri perché diciamo sono commenti significativi e importanti allora a questo punto visto che il tempo sta volgendo verso Big Bang io direi di fare intervenire come abbiamo anticipato prima Luigi Campanella che è stato presidente della sci ex docente della sapienza e attualmente si occupa il rappresentante nazionale del gruppo di lavoro della società chimica europea quella che raccoglie tutte le società chimiche nazionali sull'etica della chimica e lui ci vorrebbe parlare di etica della comunicazione è così Luigi? sì esattamente esattamente a te la parola Luigi grazie grazie Giorgio saluto tutti i colleghi che vedo con piacere alcuni da tanto tempo non li vedo più quindi è un'occasione vederli sia pure in uno schermo televisivo chi ha sentito questa tavola rotonda non può non avere percepito l'importanza della comunicazione nella nostra società di oggi scientifica ma non solo comunicazione scientifica la comunicazione in genere ma anche guardate dei rischi che questa comunicazione oggi corre rischi che derivano dal fatto che le tecnologie innovative di cui oggi disponiamo hanno reso la comunicazione più fruibile e più accessibile in modo incredibile con una crescita esponenziale e da questo è derivato un rischio che la comunicazione resta allocata e definita all'interno solo dell'informazione ma l'informazione non è concetto come diceva Piero Angela non è conoscenza e non è cultura quindi se noi la comunicazione la lasciamo limitata a un ambito informativo siamo bombardati di informazioni oramai passano come l'acqua sul vetro i sistemi che ci mettono in collegamento con web site come Wikipedia con qualunque sono tantissimi allora il problema è superare questo gap tra la la comunicazione informativa e la comunicazione concettuale e conoscitiva come si supera questo gap io credo che si supera con tre strumenti che poi sono quelli che stiamo cercando di mettere in piedi in questa tavola rotonda primo con un impegno istituzionale e strutturale secondo con delle persone di altissima professionalità e le abbiamo qua davanti non sto a ripetere quello che ho già detto terzo con l'etica della comunicazione che vuol dire condividere risorse economiche e mentali esperienze professionalità allora questa visione etica della comunicazione è stata recepita benissimo a livello della società chimica europea EUCAPS di cui parlava Giorgio noi abbiamo redatto una mega dispensa sull'etica della chimica nella quale articolata in 16 capitoli che sono stati messi a disposizione di tutte le università di tutte le società chimiche di EUCAPS perché l'etica diventasse una materia di insegnamento con un suo metodo e con un suo programma di questi 16 capitoli ben due sono solo dedicati alla comunicazione intesa proprio come condivisione di risorse economiche e mentali quindi capitale umano non solo capitale finanziario esperienze professionalità nella conclusione della chimica della ragion pura di Kant ci sono tre domande cosa posso sapere cosa posso fare cosa posso sperare la risposta a queste tre domande per la prima cosa posso sapere ci viene dalla scienza per la terza cosa posso sperare lo trovo ciascuno dentro di noi col suo spirito e la sua mente ma la seconda cosa devo fare la risposta ci viene esattamente dall'etica ed è proprio nella visione dell'etica che come mezzo strumento di condivisione che noi abbiamo il superamento dell'ego del personalismo la natura ci ha insegnato tante cose nella natura si è tentato più volte di articolarla animale vegetale acqua aria suolo poi si è capito che il problema è uno è un problema ambientale dove ambientale sta con tutti i meccanismi e con tutti i comparti che si collegano fra loro non ci sono le barriere allora anche noi dobbiamo abituarci a una visione che è quella della natura e attraverso una comunicazione responsabile noi possiamo arrivare veramente a mettere a disposizione di tutti quello che è a disposizione di meno persone e come diceva io ho apprezzato molto quello che diceva il nostro presidente del consiglio dinnanzi a un problema come il covid il problema sì è aumentare il numero delle vaccinazioni ma se noi non pensiamo a vaccinare pure i paesi poveri è un problema che torna su se stesso quindi e questo se volete è un sistema di comunicazione conoscitiva di certi valori quindi è questo che ci dobbiamo impegnare a fare la società chimica italiana ha sempre perseguito questa linea io sono orgoglioso di quello che la società chimica italiana in questo campo ha fatto e vi ringrazio molto per queste conclusioni che spero vi siano piaciute grazie 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 Luigi davvero non so se abbiamo ancora qualche minuto se i nostri ospiti hanno voglia o interesse a commentare a dire qualcosa su questo concetto di etica della comunicazione che ci ha appena posto Luigi Campanella non so se qualcuno di voi ovviamente io mi sento perfettamente d'accordo con quello che ha detto Luigi che saluto tra l'altro e quindi si riaggancia un po' a quello che dicevo prima circa l'onestà intellettuale del ricercatore quindi l'aspetto etico è fondamentale altri? vorrei forse aggiungere una cosa mi senti? si si vai vai Piero per quanto riguarda la comunicazione sono perfettamente d'accordo sull'etica questo riguarda molte cose la scienza naturalmente ma c'è un'altra cosa che avviene nella comunicazione non fatta da divulgatori ma da una corrente dai cronisti i quali fanno il loro mestiere ma io ricordo per esempio quando c'è un caso di Bella ci fu un'altra di potenza da parte di una divulgatrice che anch'io firmai e ormai nell'informazione i divulgatori erano attivatori ma era una specie di scontro tra chi sosteneva di Bella e questo è il punto che io volevo arrivare la condizione che viene applicata persino oggi lo vediamo ai NOVAX ci sono dei programmi che dicono bisogna andare a voce questo bisogna andare a voce questo non è così sapete che io ho avuto un po' di processi per un programma fatto insieme a Gian Cipolli sull'omeopatia omeopatia diciamo così e quindi nel programma non ho invitato i medici omeopatici che sono quelli che poi mi hanno denunciato e sono riuscito a convincere la presidenza la giuria il tribunale che nella scienza non c'è la par condizione un po' uno che rimane e dice adesso dirò qui c'è un signore che dice la terra piatta avete avuto le due versioni giudicate voi non è così specialmente nella divulgazione e questa è una colpa perché si mettono sullo stesso piano persone di livelli completamente diversi pegnino magari frange si portano anche nei dibattiti che ravvivano la famosa emozione che serve per tenere sull'ascolto ecco quindi anche lì c'è un'etica un'etica professionale che dovrebbe essere la diontologia però è troppo nella filosofia di comportamento che dovrebbero essere e quindi anche lì noi abbiamo un problema di affrontare quel tizio la velocità della luce non si decide per alzata di mano la maggioranza eh sì questo è un tuo cavallo di battaglia eh Piero comunque tu dai processi sei uscito benissimo e anzi hai convinto il giudice che l'omeopatia non è scienza mi par di ricordare vero è andata benissimo diciamo soprattutto che secondo me quella sentenza dovrebbe essere qualcosa che anche il servizio pubblico in particolare dovrebbe tenere presente cioè che quando si parla di scienza politica è la tracca la gente che ha dimostrato quello che dice e non la gente che afferma come si fa normalmente nella società Piero adesso ti sentiamo di nuovo un po' male mi spiace ma ti sentiamo un pochino male comunque eh vedo che il tempo eh che c'era stato concesso eh è trascorso molto velocemente purtroppo perché quando le cose sono interessanti il tempo fugge no eh quindi io ringrazio ancora a tutti voi per la vostra disponibilità per la vostra cortesia per le vostre capacità per averci dato questo prezioso eh contributo oggi e eh vi do appuntamento fra tre anni per il ventottesimo congresso nazionale della società chimica italiana che lo faremo in presenza eh va bene vi aspetto tutti sì certo è un impegno che stai prendendo adesso non ti puoi tirare indietro bene eh vi ringrazio ancora ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato eh ci sono tanti messaggi che però appunto non sono domande specifiche ma sono commenti come quello che vi ho fatto che sono molto belli non so forse si potrebbe anche cercare di pubblicare vabbè ci penseremo per il momento vi ringrazio saluto grazie saluto tutti i partecipanti grazie grazie a tutti voi e passerei la parola all'altro chairman della eh agli altri due chairman della di questa sessione plenaria non so chi dei due eh interverrà al mio posto grazie a tutti